Ieri sera al San Filippo un sopralluogo in cui avete appurato che l'impianto d'illuminazione rispetta in pieno gli standard fissati dalla Lega Pro. Sì, abbiamo fatto come concordato con il Presidente Lomonaco e con i suoi tecnici qualche giorno fa, abbiamo fatto un sopralluogo tra le 9.30 e le 10.30 di sera al buio in cui abbiamo verificato i valori di illuminazione sul campo che risultano essere leggermente superiori a quanto richiesto dalla Federazione per giocare. La Federazione, vada a memoria, richiede un'illuminazione media di 500 lux e noi abbiamo registrato un'illuminazione di 600 lux, quindi bene al di sopra. Abbiamo anche fatto correttamente, come richiesto dal Presidente Lomonaco, una prova in cui abbiamo utilizzato solo le lampade che resterebbero accese in caso di blackout. Cioè, se va via la luce, una parte dell'impianto è alimentata da un gruppo elettrogeno e anche in questa prova, come dire, particolarmente severa, abbiamo registrato questo valore medio di 500 lux come richiesto. Quindi, per quanto riguarda l'illuminazione, si può tranquillamente dare inizio. So che la prima partita è in notturna, i primi di agosto. Speriamo sia una bella partita. Noi comunque, come Comune, stiamo provvedendo adesso ad acquistare un certo numero di lampade, anche di ricambio, per essere pronti. Quindi, se da un giorno all'altro l'impianto dovesse decadere ancora, perché comunque è un impianto vecchio, avremo un po' di materiali di riserva. Otto mesi fa, la musica da bere SRL ha chiesto all'amministrazione la disponibilità dell'impianto per organizzare due concerti. La proprietà del Messina lamenta, noi l'abbiamo saputo otto mesi dopo, soltanto dalla delibera con cui lo stadio è stato già affidato. Da cosa è nato questo difetto di comunicazione che ha portato anche a questo clima abbastanza acceso? Sicuramente noi non siamo bravi con la comunicazione e lo dimostriamo sempre. Devo dire però che cerchiamo di essere attenti a seguire le regole. Se una società, se un privato, avanza una richiesta nei confronti del Comune, a meno che questa richiesta non debba essere sottoposta a una fase di evidenza pubblica, come è previsto per tutta una serie di accadimenti, noi non siamo tenuti a dare pubblicità di questo. Tra l'altro la data indicata per questi eventi è una data al di fuori dagli interessi del campionato, al di fuori dei periodi di allenamento della squadra, quindi non dovrebbe creare nessunissimo problema. siamo coperti da assicurazione per eventuali danni dovessero essere fatti durante questi concerti. Insomma, mi sembra che la procedura seguita sia corretta e rispettosa delle richieste fatte dalle società private. Grazie a tutti.